Io ho parlato di futuro, ho parlato di prospettive e di mercato italiano e dopo aver citato queste parole chiave che saranno anche insomma al centro del keynote speech del primo intervento, io invito a salire sul palco Dario Focarelli, direttore generale di Ania, associazione nazionale tra le imprese assicuratrici per il suo intervento di apertura. Benvenuto dottor Focarelli, le lascio il palco. Allora innanzitutto un ringraziamento alle fonti, un ringraziamento perché riportarci in presenza permette quello che non abbiamo fatto per tanti settimane, mesi, anni forse, dobbiamo dire, rivederci che è chiaramente una cosa che aiuta tantissimo diciamo lo sviluppo della nostra industria e della nostra community. Ho una presentazione, siamo in un mondo post pandemico ma ahimè siamo anche in un mondo che ha un'ora a due ore di volo da qui la guerra. Quindi la prima parte di questa mia presentazione sarà concentrata su vedere gli impatti finanziari causati dalla guerra e poi avrò due brevi zoom, uno sulla sicurazione vita e uno sulla sicurazione danni. Partiamo dalla guerra, allora purtroppo l'effetto principale lo sappiamo tutti è questo effetto di aumento del prezzo delle materie prime, in particolare quelle relative all'energia. Vedete, dallo scoppio della guerra sono aumentate il 39%, questi dati erano al 13 maggio, quindi il venerdì non è questo ma quello appena precedente, dall'inizio anno 75% e lo stesso sta avvenendo con i prezzi agricoli, i metalli invece dall'inizio della guerra non hanno subito nessun aumento, erano già cresciuti prima. L'effetto sul petrolio lo sappiamo tutti, è un po' strano che l'effetto sull'oro non è così forte come alcuni si aspettavano, e è una cosa su cui probabilmente si può riflettere, ma non abbiamo certo tempo per entrarci dentro adesso. La cosa importante da dire ovviamente è che sono aumentati le alle tassi interesse. In Europa la BCE non ha fatto ancora nulla, formalmente se non annunciare un graduale ripristino della normalità, in America hanno già iniziato, ma vedete i mercati sono andati più o meno allo stesso modo da noi e negli Stati Uniti. In Italia ancora un po' di più rispetto a Francia e Germania, praticamente quasi identico all'effetto americano, e quindi anche perché un pochino di spread si è riaperto. Questo è l'effetto più importante dal punto di vista finanziario per le nostre società, poi capiremo meglio perché. Però, insomma, dal scappio della guerra ci abbiamo avuto 91 basis points sul decennale, dall'inizio dell'anno 170, sono numeri grandi, perché poi vedremo anche gli effetti economici. Le borse soffrono, naturalmente quella europea ha sofferto di più di quella americana fino a qualche settimana fa, adesso invece siamo allineati. Se confrontiamo i paesi, Italia è andata un pochino peggio dall'inizio della guerra rispetto a Francia e Germania, ma siamo in unità di misura comparabili. Se guardiamo i settori, e qui entra per la prima volta la parola assicurazioni, le assicurazioni dall'inizio anno europee, queste sono, le assicurazioni europee fanno meno 4, dall'inizio della guerra è meno 3,5, quindi è stato concentrato dall'inizio della guerra. Naturalmente è un segno meno, ma è un segno meno enormemente inferiore al meno 16,4 che vedete per le banche. Non ho ovviamente tempo di elaborare perché i mercati pensano che le banche siano più esposte, resta il fatto che ovviamente c'è un segno meno anche da noi. Se guardiamo i paesi, l'Italia non è andata peggio, anzi è andata un pochino meglio rispetto a Francia, Germania e Regno Unito, stiamo parlando sempre delle assicurazioni, e probabilmente un po' anche perché c'è stata tutta una battaglia finanziaria intorno al nostro più grande player, è un po' probabilmente perché il mercato italiano viene visto comunque come un mercato di potenziale espansione, soprattutto sui rami oggi meno grandi. In generale, questa è la domanda che apre un po' alla seconda parte della conversazione, in generale l'attuale situazione può creare dei problemi sia a ramo vita sia a ramo danni, in maniera però molto diversa. A ramo vita essenzialmente con l'impatto sul valore dei titoli e quindi anche con l'impatto sull'appeal che le nostre polizze possono continuare a avere nell'ambito dei portafogli degli italiani e in generale dei risparmiatori assicurativi, sui rami danni il grande timore è l'inflazione. Esplode l'inflazione, i prezzi intervengono, ma intervengono dopo, e nel frattempo si perde. Questa è la paura. Vedete, questi sono dati europei, non sono italiani, sono troppo poche le società, solo vite e solo danni, quotate in Italia per fare questo esercizio sull'Italia, però sostanzialmente il mercato europeo ritiene un pochino più vulnerabile le imprese danni. Vedete la differenza, è meno 4 dall'inizio della guerra e anche dall'inizio dell'anno per i danni e sostanzialmente 1,0 per il Vita. Questa è la valutazione dei mercati in Europa. Adesso vado con alcune considerazioni più analitiche sull'Italia per quanto riguarda i due settori. Allora, innanzitutto in Italia ovviamente parto dal ramo vita, metto l'inflazione sul ramo vita, ma ovviamente l'inflazione è un termine generale, vedete l'inflazione in Italia sta crescendo, non è l'unico paese ovviamente, ma sta crescendo in maniera forte e non ha ancora toccato un punto di picco. L'ultimo valore era 6,6 che si confronta con 7,5 nell'area dell'euro, però non abbiamo toccato il picco, non conosciamo quale sarà il picco e a me si sposta progressivamente sempre in là il picco. Quindi, diciamo, grande preoccupazione per l'inflazione. Se guardiamo le previsioni, per l'Italia naturalmente la guerra ha avuto in generale due effetti, un aumento dell'inflazione e una diminuzione delle prospettive di crescita. L'Italia veniva da un recupero eccezionale nel 2021, naturalmente eccezionale rispetto a una caduta enorme che era quella del Covid, del lockdown, ma comunque, insomma, era un paese che era cresciuto per la prima volta nella sua storia recente, oltre il 6%, e si ipotizzava che il 2022 fosse in quel trend di crescita. Adesso la guerra ha cambiato le prospettive, bisogna dirlo. I grandi istituti internazionali stanno piano piano rivedendo le previsioni, ma è molto lento questo processo. In realtà si preferisce lavorare con i cosiddetti scenari. Vedete, questi, non ve li descrivo, sono i tre scenari che ha fatto la Banca d'Italia tre settimane fa. Uno favorevole, in cui sostanzialmente alla fine il PIL quest'anno fa il 3%, l'inflazione va al 4%, media annua, inflazione media annua. E questo viene definito favorevole. Poi c'è un intermedio, uno severo. Dove siamo oggi nel consensus degli operatori? Siamo a metà tra il favorevole e l'intermedio, ma a me stiamo scivolando. Questo è il modo più semplice di rappresentarlo. Veniamo a una cosa che è più vicino ai nostri cosi, che è la propensione al risparmio. Qui vedete la linea rossa, questo è il tasso di risparmio delle famiglie italiane. Vedete, nel 2020 c'è stato un boom del risparmio. Un po' non si poteva spendere, un po' la paura perché non si poteva uscire. Un po' la paura ovviamente del futuro ha fatto aumentare moltissimo il tasso di risparmio. Nel 2021 si stava normalizzando, ma sta intorno al 13% alla fine del 2021, mentre era una media ormai dell'8% da diversi anni. Adesso che succederà? Adesso la sensazione è che normalmente si converge verso quell'8%, ma forse la velocità di convergenza sarà probabilmente un pochino rallentata. Naturalmente se c'è propensione al risparmio, questo è buono in generale per l'assicurazione vita, qui vedete i numeri, ve li sentizzo così. Innanzitutto raccogliamo di meno che nel 2021 e questo ovviamente non è buono. Abbiamo tassi di crescita negativi della nuova produzione, però in fondo raccogliamo, e qui questa è la raccolta netta, alla fine è l'indicatore principale. Abbiamo raccolto 6 miliardi nel primo trimestre, quindi gli italiani hanno continuato a credere nelle polizze vita. 6 miliardi è il 15% in meno dell'anno prima, però è comunque un afflusso. E quando c'è l'afflusso, la gestione dei titoli, anche la gestione del ramo primo, è più facile, ovviamente rispetto a situazioni che per la verità non conosciamo da tanto tempo. L'ultimo periodo in cui abbiamo avuto raccolta negativa complessiva è stato il 2012, ve lo ricordate, anni duri per le nostre polizze. Quindi la raccolta netta è positiva e questa ovviamente è una cosa buona. È in diminuzione con un tasso di risparmio ancora alto, e questo ovviamente è un segnale mixed. Se guardiamo un po' dentro, c'è una leggerissima tendenza all'aumento dei riscatti rispetto ai premi, e questo è di nuovo una cosa su cui riflettere. D'altra parte, ovviamente, noi sappiamo che l'inflazione in generale non fa bene nelle polizze vita. Quando pensi che l'inflazione è il 7% e guardi i tuoi rendimenti, ovviamente, friggi un po', vorresti qualcosa in più. Quindi, diciamo, un punto di attenzione per tutti quanti. I riscatti è ovviamente un punto di attenzione. E ovviamente questo è anche connesso a una cosa di cui abbiamo parlato spesso in altri convegni, eccetera, avevamo uno stock di plusvalenze molto forte, plusvalenze non realizzate sui titoli. Queste si sono scomparse. I dati qui arrivano fino a marzo, ancora a marzo c'erano 20 miliardi, a aprile siamo vicini allo zero. Naturalmente è molto più facile gestire il vita quando ci sono le plusvalenze che quando non ci sono, questo è evidente. Quindi, per concludere, la parte vita è poi proprio un flash sulla parte danni. È una situazione in cui bisogna saper leggere molti segnali. La fiammata dell'inflazione non aiuta, non c'è dubbio, perché l'inflazione non aiuta il risparmio. Le persone sono convinte a consumare piuttosto che a risparmiare. D'altra parte però c'è molta incertezza sul livello dei tassi, e questo ovviamente... E il BTP è arrivato al 3%, l'abbiamo visto prima. Il BTP decennale al 3% è da un lato un'alternativa pericolosa per le nostre polizze, dall'altro però ci permette anche di ricordare al ramo primo in maniera diversa. Quindi, veramente, cambiare paradigma mi sembra l'obiettivo e saper sfruttare e leggere bene la situazione. Per fortuna gli italiani continueranno a risparmiare, perché l'incertezza li manterrà ancora attenti, e naturalmente i rendimenti alternativi del conto corrente sono, come dire, fortemente negativi, ok? E quindi reali, in termini reali ovviamente, oltre ad essere zero in termini nominali, nella gran parte dei casi. Quindi, diciamo, chiaramente i correntisti si guarderanno intorno e chiaramente le polizze possono essere, diciamo, una proposta interessante, soprattutto a chi ha un'ottica di lungo periodo. Vado veloce sui danni per darvi due numeri che ancora non abbiamo mai pubblicato, quindi oggi li vedete per la prima volta. Il primo è che i premi danni nel primo trimestre sono andati benissimo, e 7,6% la parte danni non auto. 7,6%. E quindi, diciamo, fortissima accelerazione. Se guardate i miliardi della parte danni non auto, la parte celestina, siamo passati, saltiamo il 20, che è un anno particolare, siamo passati da 21 miliardi nel 19 a 22,2 nel 2021, praticamente senza inflazione, quindi, diciamo, è una crescita alla fine del 10%. Scusate, di un ventesimo del 5%, diciamo, in un paio di anni. E continua questa crescita. Ho chiesto a molti colleghi in questi giorni se è una crescita in cui si vede già un po' di inflazione, diciamo, dei prezzi, e tutti mi hanno assicurato che non è così. Cioè, è davvero una crescita da aumento di penetrazione di test assicurate. Dell'auto non la commento nemmeno. Qui lo vedete, ramo per ramo, vi faccio solo un flash sul malattia, 8,6%. Insomma, la salute sta, come dire, crescendo molto e è sempre più interessante, diciamo, per i nostri cittadini. Non ho tempo per commentarli tutti. L'ultimo flash è sulla parte, è anche un po', mi hanno chiesto anche gli organizzatori, come la vedessi guardando poi al panel che viene dopo. Allora, io vedo due cose. Primo, che ci sono degli investimenti fortissimi a livello mondiale, non cito numeri, non faccio cose in particolare, ma insomma, se vedete la dimensione delle barrette, lo vedete immediatamente. che cosa sta succedendo nel mondo nella parte insurtech. E la cosa importante è che è tutto concentrato sulla parte danni, non auto noi lo chiameremo, PNC, e sulla parte salute, che sono proprio i due comparti che l'Italia ha disperatamente bisogno, diciamo, di crescere e aumentare. Quindi concludo con due considerazioni. La prima è che la tecnologia può davvero aiutare l'Italia a uscire da questa sua cronica sotto assicurazione. Secondo me, in parte, già lo sta facendo. Nella crescita che abbiamo visto nell'ultimo anno, anni e mezzo, chiaramente il fatto che i prodotti siano più facili, e magari appoggiati su tecnologia sta aiutando in maniera molto importante. Naturalmente è fondamentale che questa tecnologia arricchisca il rapporto dall'assicurazione ai clienti e non sia soltanto un mezzo per renderlo più vicino, ma anche di un uso più consapevole delle polizze. E concludo con una cosa che magari non ci pensiamo mai, soprattutto degli esperti di informatica e di nuove tecnologie, non la prendono neanche in considerazione. Noi siamo davanti a un potenziale tsunami normativo su tutta la parte, diciamo, tech. I due progetti fondamentali sono intelligenza artificiale e tutta la parte big data. Ne abbiamo parlato molto poco, ci saranno altre occasioni, ma certamente sono dei temi complessi, perché hanno a che fare con aspetti etici, morali e anche più complicati. Ho l'impressione che l'Europa, come spesso accade, si stia facendo prendere un po' la mano, diciamo, nella voglia di essere, diciamo, la giurisdizione più severa, più attente alla protezione, eccetera. Questo sarà un tema su cui sono sicuro nei prossimi mesi, forse addirittura anni, ne parleremo molto. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie a tutti.